nuovo appuntamento con salva un amico siamo al canile di monza in via san damiano 21 per conoscere insieme a stefano la storia di repubblica una piccola trovatella allora lei una cagnolina di circa un anno e mezzo docilissima con tutti purtroppo ha un problema agli occhi è stata visitata dai nostri veterinari e si teme che sia una cosa degenerativa lei comunque come tutti i cani ha un complesso sensoriale per cui riesce a cavarsela anche senza l'utilizzo della vista loro utilizzano l'olfatto l'udito quindi può fare una vita tranquilla nonostante questo suo handicap deve mettere comunque dei colliri più volte al giorno è importante quindi che chi decida di prendersi questa cagnolina sappia che deve stargli dietro però è una cagnolina veramente docilissima con tutti molto coccolona molto vivace attiva nonostante questo problema ripeto che non non la edificia in nessun modo con gli altri cani va d'accordo ma è un po prepotente quindi ha bisogno di stare in un contesto se ci sono già altri animali con cani più remissivi perché sennò potrebbe litigare con le persone ripeto è una cagnolina dolcissima come vedete si fa coccolare da chiunque potrà dare di sicuro tanto amore a chi decide di accoglierla in casa quale sarebbe il padrone ideale lei col carattere docile che ha può andare in qualunque famiglia l'importante è che abbiano il tempo da dedicarle per seguire il discorso sanitario di questi occhi può quindi stare anche in famiglie con bambini assolutamente sì lei anche qua abbiamo avuto del pubblico con bambini che è venuta a conoscerla e sono tutte persone con cui è andata d'accordo sia grandi che piccoli come per tutti i cani c'è bisogno di dargli di avere il tempo da dedicargli per regalargli una vita comunque piacevole cioè noi non possiamo prendere un cane poi lasciarlo lì ha bisogno di appunto essere portato in giro di passare del tempo con le persone con gli altri cani conoscere il mondo se no si annoiano anche loro grazie mille stefano si chiude qui la nostra puntata di salva un amico al prossimo appuntamento per adottare repubblica o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile di campamonza.it